Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video pre-partita Milan-Atalanta Una partita che è un all-in, se va, si riscrive un po' una stagione Se va male ci sono delle brutte conferme, è inutile girarci attorno Io credo che tanti di voi, me compreso ovviamente, in questa partita ci puntano tante fisce Perché al di là di tutto, è una partita che come la giochi ti racconta tanto Tanto, tanto, tanto di questa stagione, di questi giocatori, di questo allenatore, di questa rosa È una partita in cui tutto l'ambiente, anche alla luce di tutto il caos, biglietti Vuole vedere una squadra che scende in campo e guasta la festa a scudetto È lecito, questo è lo sport E vedere quello potrebbe davvero riscrivere la stagione Ripeto, non è tanto un discorso di classifica, non è un discorso di coppe È un discorso di rivedere una squadra che, su un palcoscenico comunque importante, va e dice la sua Io mi auguro di vedere una squadra agguerrita, affamata Però, però, dobbiamo mettere le mani avanti Perché l'Atalanta che abbiamo visto nell'ultimo periodo non è brillante Gli analisti dicono che è una partita molto complicata Però io credo che questo sia il momento in cui, se la squadra ha un briciolo ancora di forze, di energia, di voglia Devi metterle in campo Devi assolutamente metterle in campo Perché è un banco di prova come non ce ne sono altri Perché in questo momento davvero È doveroso pretendere da una squadra Un atteggiamento Un modo E magari anche un risultato Però quello forse chiederà anche troppo È innegabile se adesso Prendiamo lo scenario peggiore E si va a Milano e si prendono quattro papine Tre papine Due papine a zero Con tutto quello che è successo È giusto investierirsi un attimino E quindi io in questa partita Che mi fa una paura becca Perché Davvero non so cosa aspettarmi Spero veramente di rivedere la squadra La squadra più brillante possibile O quantomeno un atteggiamento Che cerchi di portare a casa il risultato E non prestare proprio il fianco A qualsiasi contropiede A qualsiasi azione particolare Stasettimana l'abbiamo visto Abbiamo Contro tutto Dovevamo farcela solo con le nostre gambe Ma non ce l'abbiamo fatta Arbitre e quant'altro Ormai incidono Quindi io dico Non guardiamola troppo La situazione a coppe Guardiamo la prestazione Speriamo di vedere una squadra Che combina qualcosa di buono Che Speriamo di vedere in certi giocatori La fierezza di appartenere a questa squadra Perché poi questa è davvero Sulle ultime occasioni Su cui fare un'analisi E poi bisogna ripartire A scrivere un nuovo progetto A proposito Vi invito Iscrivetevi al canale Lasciate like Perché poi Non è che ci fermiamo Anzi Quest'estate Questa fine stagione Saremo ancora più spumeggianti Degli altri anni Quindi Fossi un vuoi Non mi perderei contenuti Ed è una Vigilia di una partita Che fa molto pensare Perché i tifosi del Milan Sono terrorizzati Ieri Su Milan Channel Se non mi ricordo male Davano come notizia Clamorosa Il fatto che l'Atalanta Stasse facendo Un allenamento a porte chiuse Quando Secondo me Non dico che sono sei anni Che li facciamo a porte chiuse Ma poco ci manca Loro sono molto Scaramantici Però Secondo me Pensano veramente Di poter Salciare La coppa in faccia Fosse un tifoso del Milan Francamente Lo penserei anche io Nostro dovere Categorico È provare a guastargli La festa Ma non perché Il Milan In generale Ci hanno anche Tolto i posti A sedere Per mettere I loro tifosi Insomma Qua bisogna Tira al fuori Una botta d'orgoglio Sono tutti protesti Perché Anche delle cose Di biglietti Non me ne importa Però Tutta una serie Di situazioni Che ci fanno dire Che adesso Serviti dal fuori L'orgoglio Bisogna fare Bene Bisogna fargliela Sudare Bisogna cercare Di portare a casa Il risultato Perché poi Ora Io l'ho detto E lo continuo A ribadire Non guardiamo Le altre Però eventualmente Tra i punti col Milan Cambiano tanti racconti Ne cambiano parecchi Non lo so Cosa aspettarmi Da un lato Vorrei Darvi un'iniezione Di fiducia Dall'altra Boh Io credo però Che se qualcuno Ci tiene ancora Questa maglia Domani Domenica Ce lo farà Vedere E ce lo farà Vedere Chiaramente Perché è una Di quelle sfide In cui uno Che è un campione È chiamato Non ha più Scusanti È chiamato A dimostrare Il suo valore Per tutto Quello che succederà Poi noi andremo Ad approfondirlo Ne parleremo Non ci tireremo Indietro Questo io lo voglio dire A tutti Non ci tiriamo indietro Se si gioca male E si perde Saremo qua A dire Che abbiamo giocato male E che è una vergogna Perdere così Se vinceremo Saremo i primi Ad applaudire Ma è finito Il tempo Degli sconti Prima di tutto La maglia è sudata Secondo Vedere una squadra Che ha l'entusiasmo Di appartenere All'Atalanta E poi Tutto il resto Avanza Come al solito Io vi ringrazio Vi lascio Tutti i miei riferimenti In descrizione Fatemi sapere Nei commenti Che cosa Aspettate Che cosa vorreste Quali sono Le vostre pretese Da tifosi E ci vediamo Nel prossimo video Ciao